Gentili telespettatori, buona giornata. Berlusconi dice Ho salvato l'Italia da comunisti e non me l'hanno perdonato. Cosa possiamo dire sulle parole di Silviuccio Caro? Perché? Dice, ho salvato l'Italia dai comunisti e non me l'hanno perdonato, è un passaggio del video di Berlusconi che pubblica sui suoi canali social in vista delle elezioni regionali in programma in Lombardia e nel Lazio, il 12 e il 13 febbraio, quindi ci siamo. Molti amici, molti conoscenti, mi hanno ripetuto anche in questi giorni che io sono l'italiano a cui gli italiani devono di più. Sono l'italiano che ha salvato 30 anni fa l'Italia dall'ascesa al potere dei comunisti di allora che erano ammiratori dei comunisti russi, quelli degli 85 milioni di vittime. Berlusconi è sceso in campo negli anni 90 quando c'era l'inchiesta Mani Pulite lui scende in campo contro i comunisti. Allora, parliamoci chiaramente, lui scende in campo per tutelare le sue aziende perché quelli che volevano andare al potere si parlava, dice uno che sta in politica non può avere le televisioni bisogna il potere che ha, bla 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 quindi lui scende in campo per difendere le sue televisioni scende in campo anche perché c'era l'inchiesta Mani Pulite e insomma aveva qualche timore infatti propose ad Antonio Di Pietro, ai tempi potentissimo giudice di Mani Pulite propose a Di Pietro di diventare ministro della giustizia e Di Pietro disse no poi Berlusconi per farsi votare disse io scendo in campo per contrastare i comunisti in realtà lui scese in campo per contrastare i comunisti che volevano togliergli le televisioni dicevo fai il politico o questo o quello volevano mettere comunque dei limiti eccetera eccetera quindi lui scende in campo per difendere le sue aziende scende in campo per difendere se stesso per difendere se stesso visto che c'era l'inchiesta di Mani Pulite scende in campo dicendo agli italiani faccio diventare l'Italia come un'azienda che ho quindi fidatevi le mie aziende vanno bene faccio diventare l'Italia come una delle mie aziende quindi sistemo l'Italia perché i comunisti invece vogliono impossessarsi dell'Italia i comunisti erano già in possesso dell'Italia arrivavano fiumi di denaro dall'Unione Sovietica pezzi importanti dello Stato articolazioni dello Stato erano in mano alla sinistra molti ne hanno fatto le spese molti non avrebbero avuto il lavoro che avevano se non avevano la tessera della sinistra tu non potevi lavorare nelle università non potevi fare il professore se non eri di sinistra non facevi non eri in magistratura e insomma l'Italia era già in mano alla sinistra lui scende in campo e sdogana crea il centrodestra e argina e comincia la caduta di quello che è il sistema di potere della sinistra che oggi è in continua discesa e lui dice ho salvato l'Italia dei comunisti e non me l'hanno perdonato e beh poi hanno cominciato a indagarlo ha avuto centinaia di processi sono riusciti a farlo fuori dalla politica poi lui è tornato in politica e alla fine sì lui ha provato a salvare l'Italia dai comunisti a salvare a salvare se stesso a salvare le sue aziende diciamo che lui ha fatto un po' di tutto ha voluto appagare il suo superio il suo superio cercando di confrontarsi anche con la politica cercando di diventare anche un grande politico voleva davvero far diventare gestire l'Italia come si gestiva un'azienda voleva davvero cambiare l'Italia voleva davvero anche salvarsi magari dall'inchiesta manipolite voleva anche davvero poi contrastare il mondo comunista che spadroneggiava all'interno all'interno del paese da decenni diciamo che Berlusconi ha operato sotto diversi campi e nella storia d'Italia sarà sui libri di storia sarà ricordato dalle generazioni future che poi non l'avranno mai conosciuto ma sicuramente Berlusconi ha fatto la storia d'Italia è un uomo storico possiamo dire così è un uomo è storia è un uomo storico vivente ecco pochi come lui saranno ricordati nei libri di storia certo nei libri di storia non ci sarà Carlo Calenda Enrico Letta Roberto Speranza sono delle meteore che fra qualche anno nessuno ricorderà più di aver sentito nominare quindi Berlusconi è uno dei pochi politici che oggi saranno sui libri sui libri di storia come Berlinguer come Andreotti Craxi Berlusconi attualmente forse Meloni un giorno sicuramente Meloni come prima donna premier sarà nominata sui libri di storia ma oggi è l'unico politico vivente che è già nella storia d'Italia nella grande storia d'Italia perché con lui è cambiata è cambiata l'Italia lui ha cambiato l'Italia con la sua discesa in campo ha creato il centrodestra ha sdoganato AN i neofascisti di MSI e AN li ha fatti diventare i conservatori li ha fatti accettare quelli di destra non si sono più nascosti ma hanno trovato una loro identità ha fermato l'idea secessionista della lega razzista degli anni 90 facendoli tenendoli buoni ha cambiato e creato appunto un antagonista allo strapotere che c'era della sinistra che ormai era dentro tutte le istituzioni quindi sicuramente è nella storia ha salvato l'Italia dei comunisti possiamo dire di sì non gliel'hanno perdonato no però lui alla fine è rispuntato in politica alla fine è di nuovo in Parlamento nel Senato non gliel'hanno perdonato ma alla fine ha vinto lui il Berlusca Silviuccio caro arrivederci a tutti e grazie